Ok, ferma, fermala qua che posso via qua, sennò sono troppo pendente di me. Vai giù, il motore è spento, l'accendi giù. Fisiamo la scala. Vai, vai. Ormai vai. Piano. Fisiamo la scala. Vai, Vicky. Vai, che c'era fai. Vicky. 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 Ah, come ov 등i? Vicky. 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 Ah vabbè, adesso te la giro? No, ma non va. No, ma non va. Quella lì forte no counsel. va troppo piano, qua vai su perché ci arrivi forte, l'unica motivazione per cui uno riesce a salire su di qui è perché vai forte, quella lì forte non va, quindi. Ma c'è la marcia dentro, la marcia è, molla, aspetta che te la tiro giù, no no, facciola andare, lei ci prova una volta ancora, l'ultimo, sali sopra, la lascio a perdere Michele, molla, a quanto siamo di distanza io e te Gabriele? 5 metri, no, ma va, quanto siamo di distanza tra me e Gabriele? 3 metri, 3 metri, e anche 6, ma va, no, no no, dico in linea retta, non in salita, in linea retta c'è 3 metri qualcosa, 4 metri il massimo, e guarda dove è Gabriele, i suoi piedi sono più alti della mia testa, si si, si, quant'è sta salita boh, a parte che lì c'è il buco, è un po' più in basso, però, a lei, a lei, a lei, a lei, è lì che devi mettere a chiodo se riesco, vai, 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 molla, 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 cos'è quella? La mia batteria, povera moto, basta, video finito, adesso dobbiamo cercare di rimetterci la batteria, però, però, io direi di farlo indietro, adesso andiamo a casa ah ha ha ah 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 Sì, non mola! Ce l'ha fatta!